Qualche anno fa lei diceva che ero il peggiore incubo dell'Unione Europea, perché diceva che era quello che voleva romperla l'Unione Europea. Ci sono due partiti politici italiani che vogliono rimanere nell'Unione Europea, ma vogliono cambiare le regole sull'immigrazione, vogliono poter controllare il proprio bilancio, che diventano un problema ancora più grosso per un'Europa centralizzata. E più prosegue questa storia, una volta che saranno andati via i britannici, penserete che rispetto a questo possibile governo italiano i britannici erano una bazzecola?